Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra il vivio per la 11 e Barberino. Sulla A11 code a tratti tra Monte Catini Terme e Luca Est in direzione Pisa. Sulla A12 in direzione Genova code a tratti tra Carrara e il vivio per la 15. In direzione Sud code all'uscita di Rosignano e code per traffico intenso in direzione Livorno tra il vivio per l'Aurelia e la barriera di Rosignano. Sulla FIPILI in direzione Mare rallentamenti per traffico intenso tra Montopoli e il vivio Pisa Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!